Siamo con Forte e Negro al termine della partita tra Los Escheletos e 13 Sefsi. Vincete per 9 a 6, una partita dal punteggio particolare piena di sali e scendi. Dateci le vostre impressioni. Allora, sicuramente è una partita iniziata non nel migliore dei modi, perché comunque segni, poi lo prendi, poi risegni, poi vai sotto. Comunque queste partite, quando le lasci mezzo aperte, poi è un macello riprenderle e soprattutto riandare sopra. Poi alla fine penso siano usciti anche i singoli un pochino, è uscita la squadra, è uscito Gabriele, è uscito Leonardo, siamo usciti tutti, sia dietro che davanti abbiamo fatto bene e alla fine poi siamo riusciti a vincere. Sì, una partita abbastanza strana dal punto di vista dei gol, gol abbastanza particolari, tante sviste da parte nostra e loro, però credo che oggi grande prestazione dal punto di vista dei singoli, assolutamente qualche ragazzo che magari ha faticato un po' di più i primi giorni oggi ha prepalso. Voglio dire, quindi voglio fare i complimenti e per il resto, sì, giusto un po' di mancata concentrazione forse, perché veramente i gol è molto stupido, se si può dire, però per il resto contenti, contenti, molto contenti. Perfetto, allora grazie mille per essere venuti ai nostri microfoni e un grosso in bocca al lupo per la prossima. Grazie.